Dopo aver seguito l'indicazione di Rocco, la visione della Rocca più tra il passato, Sion di sotterno una scatola contenuta da lettere di suo nome e della sua vera amata, la regina Elan di Dunn. Poi tra un manufatto chiamato Chiave di Volta, capito al vernacolo dei pareti, Cirogina sulla torta, lui ed Eric recuperano finalmente il uovo rosso. In cerchi di risposte sull'attivo per cui il lucente è stato mappiato con il trasloge di sventura, i due si diriscono verso il tabernacolo dei pareti. Dunque ragazzi, salve a tutti e benvenuto il nostro nono sul tecchio di sotterno e spettivo di Ravencrest, dunque dobbiamo dirigerci, come ha detto la nostra proporzione, al tabernacolo dei pareti, e stiamo andando avanti nella nostra puntura. Ecco. Beh, se bastia per accadere questa parte. non lo faremo faremo il rasso. darò che trovano qui di me «necchi»?! Non lo faremo, è bello che ci succederà. Luggerino, ci sono rari... Non stai solo là, vieni! Ora, lo vedete! Ecco, prendi la mano! A presto, la keystone! Non vieni a me, Darkspawn! Non vieni a me, Darkspawn! Non vieni a me! Ora! Ora! E vabbè... bello fuori anche lui, eh... uno dei due comandanti delle truppe... Allora... Uff! L'abbiamo fatto! E' stato troppo vicino! Ehm? Ehm... Ehm... Quindi, eh... dove esattamente siamo? Non riconosco questo posto. Dunque, siamo in una nuova zona, eh... Siamo stati teletrasportati... Dove ho potuto anche il tabernacchio dei paletti. Non riuscirei a sfuggirmi! Concarito per essere riuscito a vittare il catturro da parte del capaglio Sir Henry, che continua adatteccata per chiaramente sia un portatore di sventolo. Quindi ragazzi, tenete anche il boss per il suo profeo. Ehm... 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 ếname... Ehm... 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 ragazzi siamo l'aspirazione più totale ecco qui, forse abbiamo trovato un posto nuovo la sauna, sono tutti i vecchi giochi di rio molto giapponese, molto orientale questa visione dei panorali ah, un film molto bene, molto molto bene ora, almeno per favore ummm, siamo un po' abbastanza per essere...sweati, grazie apprezzate l'offre troppo abbastanza troppo abbastanza, troppo abbastanza troppo abbastanza, troppo abbastanza la scena di rio ecco Ok, magari non sono la mia più fresca. Ok, vi faccio la tua baffa se ci vuole tanto. Puoi anche andare fuori dalla giornata mentre abbiamo la possibilità. Ci vediamo in là, ok? I vengono portano un guest. Voi lo guidare a dove la glissà si arriva. Allora, sotto il monte Yuzo, i visitatori sono rari come tormento i giorni di soli. Se cerchi il tuo compagno della chioma Cerulea, vai la sauna in cima della scala, aggiungerai una vetta nella nebbia. Allora, ci adatti una dritta in cima della scala, che abbiamo i mercanti, quindi potremmo anche gli faccio gli occhi, gli darò una pitiata all'antitiera, dobbiamo di cuore. Poi noi dovremmo andare proprio in cima a la scala, il gioco ci va tutto in un'indicazione. Come potessi! Oh! Oh! That's no way to treat a lady! Didn't your mother teach you any manners? Your words greet my ears. A good child should be silent and... I told you I need to speak to the owner. It's important. He might know where my little sister is. A child in a bar is like a fish in a tree. You must search elsewhere. Urgh! Fine! If you're going to be a complete pig head about it, I'll go and ask the guards by the gate instead. Hmm? Ooh! What do we have here? Well, are you going to tell me your name or not? Hmm. Could be worse, I suppose. Listen, you and I need to talk, but my little sister is missing, so I have to go and find her first. I never thought I'd finally meet you in a place like this. It's funny how things work out. Che possa essere un futuro personaggio dei parti. Questa è una nera orte che abbiamo appena incontrato. Che possa essere poi l Ah, abbiamo delle altre dalle perere, ragazzi. Ora, vediamo di questa missione secondaria, il matrimonio incombia e mio figlio sta per sposarsi ha bisogno di una nuova. E io rovo che se lo paralizzano, non manchi il talento, non so come si crea un gioievo di quel tipo. Toglio una forza da viaggio, e se anche come si usa, crea un anello d'oro. E non che sia normale, ma se il special mio figlio ne ha davvero un gran bisogno. Allora, ci danno un boomerang, ecco, ci danno anche il loop. Perfetto, quindi impariamo a fare gli anelli. Ok, ragazzi. Non vi ho letto tutto quello che... Un anello per domani, ragazzi. Citazioni, eh. Qua abbiamo degli altri. Ha un forza da rompere. Perfetto. Potrei anche poi fare un po' di spese. Qua vedo negozi ovunque. E veramente non vedo l'ora di vedere se posso migliorare il mio equipaggiamento. Quanto scrauso possa essere al momento. Perfetto. Allora, quello che possiamo pensare a salire ancora le scale, e vedere se troviamo Erich da qualche parte. con i campi di Nero. Qual era la sua zona per le donne? E' un salvo di caldo. Oh, caldo. Fermo. Allora, qual era la sua zona per le donne? Ma qui stavamo entrando nella zona delle donne, vecchio marpione. ma si gli abiti più lati e occasioni il piacere del sudore ti attende un po' di più Quattro. You've been sculping out the town, huh? See anything interesting? Ah, her? Yeah, she was sniffing around here, too. She's way too young to be hanging around in bars, though. No wonder they kicked her out. I don't envy her having a kid's sister to run around after. They have a habit of causing headaches. Wh-wh-where are you? Uh, did you just say something? Where are you? Where did you go? Is that a g-g- I can't find you anywhere! You scared us there for a second. What are you doing in here? I was waiting in the inn! You said you were going to take a bath, but you never came back! Wh-where did you go? Wh-why did you leave me all on my own? Sounds like she's lost someone. Wait. This must be the girl whose big sister's looking for her. Why don't we see what we can do to help? How about you dry your eyes and tell us your name, kid? Uh, 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 Connie! Nice to meet you, Connie! Why don't you come with us and we'll help you find whoever it is you're looking for? Really? Thank you! Ok allora ragazzi abbiamo triggerato la missione a quanto pare un oggetto Ora possiamo uscire fuori, vado solo a controllare che non ci sia niente che possiamo raccogliere qua Ecco la ragazzonetta di sedio come vedete, dobbiamo andare a cercare la sorella Non è presto per te, vattene via, si ma qui c'è l'urse signorina, poi non lo faccio Allora, l'abbiamo fatta ragazzi, siamo dovuti diventare nel bagno delle donne, questa è una grande vittoria Vediamo se ci dicono qualcosa tornando dalla parte rossa Qui i maschi non possono entrare, vattene via Conferito per essersi diventati in un area dove nessun uomo era mai stato preso Conferito per essersi attivi, mi sono dedicato almeno 10 titoli Ecco qui ragazzi abbiamo fatto un titolo segreto, non sapete cosa fare Non vi da nessun trofeo, ok vogliamo uscirci Vediamo un po' bene le zarzate E comunque prima era la ragazzina che è entrata nel bagno degli uomini E qui non è che c'era questo gran controllo Allora io ogni tanto mi guardo in giro per vedere se troviamo nuove Come dire, nuovi oggetti da raccogliere nascosti di qua e via Ma non credo eh Una persona deve insegnarmi giocando a Tomb Raider a guardare il Dapper Una persona che ora non preoccupata da noi Noi tu nemmeno, anzi c'è capito E vedi il Dapper Allora, vediamo se abbiamo un suggerimento Prima è comparse una ragazza strana, i gatti con il barista, poi si ne mette Le bambine dovrebbero essere senzioni, troppo gli uomini che cadono in un suggerimento E poi la ragazzina, si diretta verso l'ingresso dei bisogni, e non lo riesce a fare lì Eccole là, guardate Now listen to me, little girl Have you seen my sister or not? Well, well, what do you know? Looks like she's picking fights with grown-ups again I wish they told me they only let complete pig heads live in this stupid town before I bothered coming here Oh, it's you Hey kid, good news We found your sister Why so sharp? Aren't you pleased to see your big sis? She's... Huh? I don't know why you're looking so pleased with yourself That's not my sister I've never seen this girl before in my life What? Uh, I don't have any brothers or sisters I've lost my daddy Gosh, where do I start? Did you not think of, I dunno, maybe asking her who she was looking for instead of jumping to idiotic conclusions? They're called homini Listen, short stuff I'm not gonna let a little brat like you speak to me like that I hate to point this out, but you don't have time to be standing there getting your knickers in a twist You've got a daddy to find Listen, I want to talk to the owner of that bar, but I can't get in there on my own Can I come with you? Much over Thanks, I'll never get in there otherwise You're a lifesaver I'm Veronica, by the way Right, let's get going, shall we? I'll look after this little one Don't worry, you don't have to rely on these two dunderheads anymore We'll find your daddy in no time, you'll see Thank you Kids these days, huh? No respect for their elders Well, looks like we don't have much choice Let's hit the bar Ok, now let's go back to the cavern And then we'll be here Welcome to our inn A safe haven in life's storm Come Warnings unheeded The fish returns to the tree What can deter her? She's with us Do you have a problem with that? Understanding dogs The fish has a chaperone No one's sitting here, are they? Service, if you please A fearsome young pup Perhaps tea will soften her A fine, warming brew That sounds lovely But I don't have time for tea, I'm afraid I'm looking for someone I'll get straight to the point There's a girl called Serena Blonde hair, looks a lot like me Have you seen her? Serena 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 Yes, now I recall The young girl sought her sister But left without joy That'll be her Did she say where she was going? Westward, she wondered Sensing her sister, she said Guided by voices Westward? Oh, the idiot must have gone to help me And I was already back here Oh I was kidnapped, you see I was in the bathhouse When some monsters attacked me They took me off to their lair I managed to escape So I came back to find Serena But it looks like now She's gone to try and rescue me Right, you lot You're no ordinary travellers Anyone with eyes can see that I don't have time to explain All the ins and outs of it right now But I need you to help me go and find my sister Are you in? I knew you wouldn't let me down Are you leaving? I want to come with you Sorry, you're staying put But don't worry I think I know where your dad might be We'll find him for you So be a good little girl till we get back You do realise you're a little girl too, right? You sure you're going to be able to keep up? Who do you think you're talking to? Veronica, sage of arborea and mighty magician Can keep up with riffraff like you any day I'm more worried about you slowing me down if I'm completely honest Right, let's head west, shall we? The monster's lair is a giant underground labyrinth out that way I'm pretty sure we'll find Serena in there somewhere The entrance is on the coast I know exactly who you are, you know Don't let me down I'm gonna get out for you I'm gonna take you off the road I'm gonna get out for you Allora, ragazzi, mi sembra che abbiamo trovato un nuovo compagno per il nostro viaggio lasceremo qui, durante la forma principale, evolveremo, eccola qua che ci serve, evolveremo la sua quest, comunque se andiamo di qua usciamo diretti nella mappa del mondo, io vi dico, visto che abbiamo registrato un bel post, se vi è piaciuto questo episodio lasciatemi like, iscrivetevi al canale ragazzi per sapere quando vi porto i nuovi contenuti di Dragon Quest, ora unica release dal canale, visto che abbiamo finito Liberation, e che altro dire, iscrivetevi anche al secondo canale dove vi sto portando tutto sotto in descrizione, anche Assassin's Creed, Odyssey, di Aran di Cassandra nel DLC, e oramai siamo arrivati ad Atelante, quindi anche quello è un direttore. Alla prossima ragazzi, ciao ciao, e grazie sempre ad aver visto l'episodio. Grazie. Grazie a tutti.